Questa è diventata la mia battaglia perché io con questa trilogia voglio davvero fare una battaglia per, come hai detto tu, rivendicare il diritto di invecchiare senza sentirci inadeguate. Ok, questo è proprio il mio vessillo. Perché mi sono sentita inadeguata io? Hai capito Chiara? Io sono invecchiata e poi improvvisamente mi sono trovata che il mio corpo non era più come prima, mi dava risposte diverse, no? E quindi invece di mettermi a piangere o chiudermi in una palestra e massacrarmi di ginnastica o farmi dei ritocchi chirurgici, ognuno reagisce a questa cosa come meglio crede e cerca di affrontarla al meglio possibile perché, come hai detto tu, è un tabù, no? Invece io sono andata alla libreria universitaria dove non entravo da 20 anni, 25 anni, ho preso testi aggiornati di fisiologia, anatomia, menopausa, eccetera, eccetera, e mi sono messa a studiare. Luana Valle, insegnante e scrittrice genovese, racconta così come è nata la sua trilogia sulle tardone, in cui offre consigli che riguardano ginnastica, dieta e persino sesso per le donne in menopausa. In attesa che esca anche il libro che parla con ironia degli uomini che invecchiano, venerdì 19 febbraio sarà ospite della trasmissione Prospettive in onda in Lombardia alle 20.05 sul canale 16 del Digitale Terrestre.